Esordio travolgente per l'Arezzo calcio femminile, battuto per 3-0 al comunale di Castiglion Fibocchi in Ravenna nella prima di campionato di Serie B. Emiliano è ancora in costruzione, mentre la CF Arezzo si è mostrato subito in gran forma. Già al quarto le Amaranto passano in vantaggio, Plonner pesca in profondità, Nocchi che controlla davanti al portiere, piazza la palla in porta senza difficoltà. Al quarantottesimo Nocchi firma la sua personale doppietta di testa, capitalizzando al massimo il cross di Fortunati. Tonelli al novantesimo realizza la rete del definitivo 3-0. Prima di tutto voglio dire anche un grandissimo bravo, un grandissimo well done in inglese alle mie giocatrici, tutte, 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 tutto lo staff. perché abbiamo fatto un gran preseason, sono tutte arrivate preparate, tatticamente a un livello atletico nella prima partita del campionato. Abbiamo fatto un buon inizio, come ha detto. La cosa che abbiamo visto anche è che possiamo sempre migliorare, sempre migliorare. Noi vediamo il lavoro di noi stessi, quindi sempre con il pallone, quando siamo anche in fase di non possesso, come possiamo migliorarci. La prima di campionato è sempre una bella emozione perché si ritorna a giocare, rinizia il campionato e quindi avevamo tutte grande voglia di metterci in mostra e di far vedere subito al campionato che possiamo valere. Abbiamo fatto bene, insomma, quindi dobbiamo continuare a lavorare e continuare su questa strada.